E' sempre stato fissa questa minchiata dalla banda della Magliana. Ma tu guarda questo come ha scritto tu. Eccoci qua eh, da parte della banda della Magliana. Ma voi veramente pensate che fai i sordi con sto tour? Allora, scusate, ma che è? Un Ego? Un bar? Che è? Un locale. Che sarà un locale? Dai, proviamo a entrare di qua. Ma c'era un amichevole. Sostante mondiali. Abbiamo appena battuto l'Argentina. Ma lo capito no che stiamo nel 1982. Chi sta a fai col telefonino? Che prendono per pazzo? Mettilo lì. No, sono passato da un po' di tempo le sigarette elettroniche. Anche? Aspettavo il tablet, Facebook e il pulcino Pio. Siamo se a Roma, Moreno. Qua scherziamo su tutto tranne che sui sordi. E io lo mandrò anche. L'abbiamo a dire, l'abbiamo a dire. Eh? Del boss. Proporrei una piccola dilazione con gli interessi e naturalmente... Non ho 32 ore. Non sei contento? Non ho amicizia. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Ma che sa, ricchi e poveri, no? Non mi sapevo io, cioè che sia strano, come c'è. Che cosa dice? Vabbè, ma io che ne sapevo che la fidanzata del boss? Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Chi sei? Il mio nome è Jobs. Steve Jobs. Fermi tutti questa carabina! Giulia Arvi! E voi siete? Siamo i Ghis. I Ghis siete. E voi siete?